La riunione interparlamentaria di Reino Olandese inizia a Siman Aki. La fraccia di Meab Tamet è presente e ha una nota per entregare durante la riunione con la suggerenza per la integrità della governazione. La riunione interparlamentaria di Reino Olandese inizia a Siman Aki e ha cominciato già a marzo 3 di juni e termina già a marzo 6 di juni con una differente topica clave che deve trattare. La riunione interparlamentaria di Reino Olandese inizia a Siman Aki La fraccia di Meab Tamet è differente punti di l'ante per chi non sta preoccupando e in questo caso è risultato che il paese del Reino che sta più attrazzando il terreno di integrità. Quindi non ci sono leggi, non ci sono regla e non ci sono quantità di scendolo tra di scendolo tra di scendolo. Mirando a Saki, la fraccia di Meab trajo una nota e lo è entregata a Saki durante la riunione interparlamentaria di Reino. E nota a Saki è enfocata la integrità di cui, secondo la fraccia, non ti ha il momento di avere. La integrità è la direzione interparlamentaria di cui, secondo la riunione interparlamentaria di cui, è una situazione reale di cui, per chi non sta preoccupando, ci sta spiegando anche che l'instituto è importante in maniera algemene, in rei, in Camer, Centrale, Accountants, Diense, Rato di Advizio, in varie occasioni, c'è il governo che viola la classe di lei e regla, e ci sta suggerendo la traiettoria di cui, per la riunione interparlamentaria di cui, per il giorno, per l'interparlamentaria di cui, per il giorno, per l'interparlamentaria di cui, c'è un differente aspecto che lo m'estera adattata, così la direzione e l'integrità del Parlamento e della governazione, secondo il leader del partito. Per cominciare, mi sembra che è la legge di finanziamento del partito non politico. In Holanda, per esempio, ora con un partito politico, ha già più di 1.000 euro di donazione, in campagna, mi sembra registrare Saki e rapportare Saki nel governo, di un delabin. Quindi, sumane più alto che sei e ho pubblicato per tutti i giorni per l'interparmiare. Qui in Aruba non c'è una legge così. E di due passi come se guarda, c'è una miglior legge di scrittura di politico. Però ora qui in Aruba non c'è una legge di scrittura di politico. Un di tre passi, c'è un ombudsman, il defensor del popolo, una proposizione di lei, mi ha attraggato anche e entregato, e qui in Parlamento, ora qui in Parlamento mi sta ponendo pressione, con un defensor del popolo, qual è la PON. Sin embargo, mi senti che è un fascista, ma è il defensor del popolo, il derecho di un ombudsman, il kinder ombudsman, qual è il hoppio necessario. Però il quadro di integrità, non è un mestre, l'ubbità, il defensor del popolo generale. C'è una legge di scrittura di politico, Grazie a tutti.